Cuore anche a me! Radio Pondola e Stabile! Ciao ragazzi, siete uno spettacolo, fatevi un applauso! Sono uno di quelli che non sono in base se rimango fermi un esploratore di uomini nascosti, paradisi e infermi un osservatore, un bambino curioso mi nutro da ogni lontananza e al resto non faccio più caso Ho bisogno di movimento, di spostare il mio pari centro e io mi adatto facilmente, dappertutto mi ci trovo dentro è uno spirito nomade, quello che mi fa muovere e andare avanti mi tiene vivo e ritrovo ciò che non avevo L'orizzonte mi conquista e fermo io non so, non so più stare è un richiamo che rapisce l'anima L'orizzonte mi conquista e fermo io non so, non so più rimanere vivo e voglio scoprire fino al mondo com'è fatto, com'è fatto il mondo lungo gli argi del mondo che appare una sagopa senza colori ritagliata sul velo sorale sullo spingo appeso da cuori L'orizzonte mi conquista e fermo io non so, non so più stare ed è un richiamo che rapisce l'anima L'orizzonte mi conquista e fermo io non so, non so più rimanere vivo per scoprire fino in fondo com'è fatto, com'è fatto il mondo un minuto di più, un minuto ancora un minuto a quel sempre che si è trascinato fino ad ora e così cambio aria, entro in un'altra storia provi nei passi verso quei luoghi di cui non ho ancora memoria L'orizzonte mi conquista e fermo io non so, non so più stare è un richiamo che rapisce l'anima L'orizzonte mi conquista e fermo io non so, non so più rimanere vivo per scoprire fino in fondo com'è fatto, com'è fatto il mondo com'è fatto, com'è fatto, com'è fatto, com'è fatto avete fatto un sacco di cose merita e si perché nel 2007 avete vinto Sanremo Lab, vero? ricevendo anche il premio della critica e poi siete freschi di Wind Music Award come giovani talenti all'Arena di Verona ma perché non ho premiato per giovani talenti ci avete 40 anni a testa ma tu no, tu sei più giovani l'ambito musicale non si finisce mai di essere giovani e quindi cerchiamo è giovane dentro è giovane della nostra musica speriamo e quindi noi non siamo più tanti giovani ma cerchiamo di fare della musica noi abbiamo appogato lì indietro